Che sia un piatto della gastronomia fanese è certo e che sia nelle dita di ogni chef o cuoco locale pure, ma da qui a fare una versione di eccellenza gastronomica rilevante un po' ci passa. Non basta metterci le varietà giuste di pesce o gli ingredienti corretti per farne uno da premio. Bisogna avere la cultura gastronomica corretta. Ogni anno la coda del Festival Internazionale del Brodetto delle Zuppe di Pesce è la proclamazione del miglior brodetto eseguito in un ristorante della zona, decretato da esperti ed accademici che si sono sobbarcati il piacevole onere di testare le preparazioni degli chef. Quest'anno ad aggiudicarsi il primo premio è stato l'Osteria della Peppa con una chef donna ed una gestione del locale tutta incentrata sulle materie prime di qualità e la freschezza degli ingredienti. Quest'anno abbiamo ricevuto il premio come miglior brodetto, siamo stati molto contenti, è frutto della collaborazione di tutta la cucina, della chef mia madre Landy Cinzia e delle nostre sfogline che hanno preparato la pasta perché oltre al brodetto, quest'anno abbiamo introdotto anche un nuovo piatto, le cristalliate al brodetto fatte con la farina di polenta. Bene, complimenti, la chef come ha aggiustato questa ricetta? Piccoli segreti si possono dire? Piccoli segreti semplici con chiaramente la freschezza anche del pesce che veramente siamo stati, abbiamo avuto anche un buon prodotto di pesce con molta semplicità, olio extravergine, le solite cose, il pomodoro fresco e quant'altro insomma, quello che serve per il brodetto è semplice insomma. C'è un evento che corona un po' e chiude un po' il cerchio di questa manifestazione, un appuntamento molto importante. Sì, giovedì 16 novembre qui presso l'Osteria della Peppa ci saranno le premiazioni per il Festival del Brodetto ed è aperto a tutti quelli che vogliono partecipare, quindi siamo molto contenti di questo.